Dobbiamo attrezzarci e prepararci per affrontare bene questa pausa di festività natalizie e del Capodanno. Per questo se vogliamo vivere nelle condizioni più serene e tranquille possibili è necessario introdurre delle regole più stringenti con la massima cautela e azioni improntate alla massima precauzione. Per questo abbiamo deciso di prorogare l'ordinanza sull'obbligatorietà della mascherina su cui peraltro interverrà anche il Governo. Chiediamo a tutti di fare la massima attenzione per cene e feste private utilizzando green pass e mascherine e soprattutto numeri molto contenuti. Dovremo applicare i nuovi criteri stabiliti dal Governo proprio in queste ore per affrontare i prossimi giorni cercando di ridurre la curva dell'aumento dei ricoveri di posti letto nei nostri ospedali e di ridurre anche il contagio che in questi giorni si sta facendo molto serio. La responsabilità di ciascuno di noi è legata alla salute di tutta la comunità.